E adesso conciò io annuncio che il prossimo 20 novembre terrò un concistoro nel quale nominerò nuovi membri del Collegio Cardinalizio. I cardinali hanno il compito di aiutare il successore dell'Apostolo Pietro nell'adempimento della sua missione di principio, fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione nella Chiesa. Adesso anche in nome dei nuovi porporati. Monsignor Angelo Amato Salesiano, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Sua Beatitudine, Antonius Nagib, patriarca di Alessandra dei Copti in Egitto. Monsignor Robert Sarra, presidente del Pontificio Consiglio Corunum. Monsignor Francesco Risi, arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura. Monsignor Fortunato Baldelli, penitenziere maggiore. Monsignor Raymond Leo Burke, prefetto del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica. Monsignor Ricord Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Monsignor Paolo Sardi, vice camalengo di Santa Romana Chiesa. Monsignor Mauro Piacenza, prefetto della Congregazione per il Clero. Monsignor Villasio Di Paolis, presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Monsignor Medardo Giosef Mazzombe, arcivesco merito di Lusaca in Zambia. Monsignor Raul Edoardo Vela Ciriboga, arcivesco merito di Chitto in Ecuador. Monsignor Laurent Monsignor Pazzini, arcivesco di Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo. Monsignor Paolo Romeo, arcivesco di Palermo in Italia. Monsignor Donald William Wall, arcivesco di Washington, Stati Uniti d'America. Monsignor Raimundo Damasceno Assis, arcivesco di Aparecida in Brasile. Monsignor Kazimierz Nitsch, arcivesco di Varžava in Polonia. Monsignor Albert Malcom Rancid Patapentigedon, arcivesco di Colombo in Sri Lanka. Monsignor Reinhard Marx, arcivesco di München in Freising in Germania. Ho deciso inoltre di elevare alla dignità cardinalizia due presoli e due ecclesiastici che si sono distinti per la loro generosità e dedizione nel servizio alla Chiesa. Essi sono Monsignor José Manuel Estepa Lawrence, arcivesco ordinario militare e merito in Spagna. Monsignor Elios Grecia, già Presidente della Pontificia Accademia per la Vita in Italia. Monsignor Walter Brandmulo, già Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche Germania. E Monsignor Domenico Bartolucci, già Maestro Direttore della Cappella Musicale Pontificia. Nella lista dei nuovi poporati si riflette l'universalità della Chiesa. Essi infatti provengono da varie parti del mondo e svolgono differenti compiti al servizio della Santa Sede o a contatto diretto con i popoli di Dio, quali padri e pastori di chiese particolari. Vi invito a pregare per i nuovi cardinali, chiedendo la particolare intercessione della Santissima Madre di Dio, affinché svolgano con frutto il loro ministero nella Chiesa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.